Il generale Abdel Fattah al-Sisi fa un altro passo verso la presidenza dell'Egitto. Il ministro della difesa e comandante dell'esercito si è dimesso dai suoi incarichi per candidarsi alle elezioni che dovrebbero tenersi entro luglio. L'annuncio è arrivato al termine di una giornata caratterizzata dalle proteste dei fratelli musulmani contro le condanne a morte di massa nei confronti degli esponenti della confraternita. Il maresciallo al-Sisi è un uomo d'onore e la maggior parte del popolo egiziano lo ama. Ha salvato il popolo dalla confraternita terrorista dei fratelli musulmani che stava conducendo il paese verso la strada dell'inferno. È una gioia sapere che il maresciallo al-Sisi si candiderà, ma il futuro sarà comunque difficile e la gente non avrà pietà chiunque sia il candidato. Al-Sisi è già il padrone dell'Egitto. L'architetto della destituzione del presidente Morsi si è imposto come l'uomo forte capace di battere il terrorismo ed è ultra favorito alle elezioni presidenziali. L'architetto della destituzione del presidente Morsi si è imposto come l'uomo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte. L'architetto della destituzione del presidente Morsi si è imposto come l'uomo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte. L'architetto della destituzione del terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il terrorismo ed è un luogo forte capace di battere il